Enrico Santinon, Presidente dell'Associazione Mosaico di Montebelluna, nonché titolare del Caffè Garibaldi. Come avete accolto le normative che regolano la riapertura e con che spirito riaprite? Sì, allora, qui a Montebelluna le normative sono state recepite abbastanza bene, visto che sono anche il Presidente del Mosaico, visto che anche i soci hanno reagito in maniera propositiva. Ci stiamo muovendo comunque per intraprendere tutto quello che è possibile per riorganizzare i giovedì sera con le restrizioni che ci saranno e questo potrebbe essere un buon punto di ripartenza per tutte le attività di Montebelluna. Beh, con spirito combattivo e resiliente abbiamo approfittato di questo periodo di chiusura per effettuare un insieme di lavori che probabilmente non era possibile fare durante il periodo d'apertura, quindi rifacimento dei pavimenti, ridipintura dei locali. Abbiamo cercato appunto di rendere ancora più gradevole il nostro ambiente e in modo positivo abbiamo reagito a questo periodo senza batterci, anzi vogliamo riaprire con ancora più determinazione di prima e crediamo che il mercato possa reagire a questo periodo di lockdown. Sì, lo spirito che abbiamo affrontato, siamo qua tutti quanti in attesa che funzioni le cose, ce la mettiamo tutta con un morale un po' giù perché abbiamo avuto due mesi vuoti, per noi non era mai stata un'abitudine così di trovarci senza lavoro in questo modo qua. Abbiamo perso tanti contatti, tanta gente e adesso vediamo, abbiamo due settimane che facciamo per esportazione sabato e domenica, abbiamo visto tutti i nostri clienti di Montebelluna e dintorni a prendersi le cose, però non è il nostro modo di lavorare questo. Le normative mi sembra bene adesso perché può venire a lavorare i dipendenti, tutti quanti, vediamo di far meglio, tenere i tavoli staccati, niente fiori nei tavoli, tutte queste regole che ci hanno mandato le rispettiamo e proviamo a vedere da mercoledì che apriamo a mezzogiorno. Allora noi siamo felicissime di aver ripreso ovviamente perché dopo diversi mesi di chiusura non vedevamo l'ora di riaprire. Le normative anticontagio sono poco più di quello che facevamo già noi prima, a parte l'obbligo costante della mascherina, comunque noi guanti, mascherine quando facevamo i piedi eravamo già abituate. Sanificazione degli ambienti, pulizia, sono tutte cose che normalmente l'estetista utilizza perché abbiamo sempre a che fare con il rischio biologico, quindi per noi per fortuna non è cambiato molto, quindi siamo felici insomma. Allora affrontiamo con grande voglia di riprendere il lavoro questa riapertura, un po' in tensione per le normative, arrivate all'ultimo momento. Ringrazio comunque soprattutto il nostro Presidente Provinciale Gian Antonio Papa che ci ha seguito in tutto questo percorso e ci ha formato, ci ha dato indicazioni precise sulle normative da seguire fino a ieri sera alle 8. Siamo qua con la voglia di rivedere i volti delle nostre clienti e di poter ricominciare a fare e a creare tutto quello che facevamo prima. Lo spirito con cui riapriamo è uno spirito bello agguerrito perché c'è bisogno di lavorare, bisogno di lavorare, di riprendere, di tornare alla vita. Adesso tutti uniti noi commercianti ci daremo un sostegno, una mano per affrontare qualsiasi tipo di problema, anche per chiarire queste nuove normative, questi modi di comportarsi che giorno dopo giorno scopriremo e vedremo l'attuarsi. Contiamo molto nell'aiuto di chi ci governa e soprattutto che il primo periodo sia un periodo di insegnamento da parte di loro e di una guida di come dobbiamo comportarci, di come dobbiamo attuare queste normative. Anche da parte di tutti i nostri clienti, di tutti i cittadini, contiamo su di loro che, in parole povero, si comportino bene anche loro, che non stiano ligi al metro di distanza. Questo è importante, un metro di distanza e mascherine sempre.